A prendere velocità Macchina che va via Al comando c'è Minicube alle prese con il numero 1 E poi il numero 3 di Lovelock Rock In avanti Minicube Minicube che sfila al comando Minicube che sfila al comando nei confronti del numero 1 Ed è il numero 3 Quindi in avanti Minicube Minicube che controlla la situazione nei confronti del Numero 1 Orgoglioso P Ancora Lovelock Rock Poi il numero 2 di Narcos N.P. Quindi il numero 7 di One More Time che risale la corrente Avendo appresso l'11 di McLaren Orr In avanti Fulvio Gallo a gestire il vantaggio Di Minicube a largo c'è ancora il numero 3 di Lovelock Rock Quindi c'è il numero 1 di Orgoglioso P lungo i birilli Quindi Minicube ancora McLaren Poi Lovelock Rock lungo i birilli il numero 1 di Orgoglioso P In avanti sempre e comunque Minicube Minicube ancora il numero 1 di Orgoglioso P Minicube in avanti Minicube che controlla la situazione Minicube che cerca a lungo Minicube nel tratto conclusivo C'è Orgoglioso P che viene a vincere Viene a vincere Orgoglioso P nei confronti del numero 6 e del numero 2 Rivediamo il rallenti Diamo il rallenti con l'1 di Orgoglioso P Il 6 di Minicube E poi c'è il numero 2 di NarcosNP